ben trovati a questa nuova puntata del mio podcast io sono giuseppe raudino e vi sto raccontando il romanzo che ho scritto che si intitola stelle di un cielo diviso alessandro polidoro editore con la quarta puntata troviamo catherine la protagonista e voce narrante del romanzo seduta su una comoda poltrona accanto a una grande finestra della in una hall dell'albergo siamo nicosia e più esattamente ci troviamo nella parte nord di nicosia coloro che hanno seguito il podcast o coloro che si interessano di politica internazionale geopolitica sanno che cipro è un'isola praticamente di fatto divisa in due parti a nord ci sono i turchi che l'hanno occupata nel 1974 e a sud quello che viene definito il governo legittimo e che coincide con la parte greca dell'isola catherine si trova a nord a cipro nord nella capitale nicosia l'ultima capitale d'europa divisa dal filo spinato e ci presenta la situazione così come lei la vede la descrive nel 2000 che è l'anno in cui si apre il romanzo nel romanzo ci sono molti flashback ci sono molte analessi per cui ci sono continuamente dei salti temporali che fanno tornare al periodo in cui catherine effettivamente viveva sull'isola sappiamo che si è trasferita con la famiglia lo vedremo più avanti a dire il vero subito dopo l'occupazione turca quindi subito dopo il 1974 e ha passato la tarda infanzia l'adolescenza e gli anni dell'università sull'isola adesso nel 2000 c'è tornata perché ha un incarico da parte dell'onu e seduta su questa poltrona guarda fuori dalla finestra e vede che di notte effettivamente c'è più un movimento rispetto a una quindicina di anni prima il riferimento temporale ovviamente è un po vago ma sappiamo che 15 anni prima più o meno lei abitava lì studiava studiava sull'isola e quello che nota adesso è che ci sono tanti turisti principalmente russi turchi turchia dalla madre patria e britannici i britannici ovviamente hanno sempre avuto una certa presenza sull'isola in quanto sono stati gli ultimi che l'hanno dominata gli ultimi dominatori prima dell'indipendenza degli anni 60 e c'è un rapporto particolare con i britannici i russi a proposito sempre dei britannici Catherine cita un autore un romanziere piuttosto famoso che sarebbe Durel il quale ha scritto tante memorie dei suoi viaggi nel nel mediterraneo e che ha vissuto proprio sull'isola poi ci sono i turchi che sono in vacanza lì portandosi dietro dice una certa superiorità rispetto ai turco ciprioti perché c'è da dire che nonostante condividano la stessa lingua cipro è stata un un'occupazione dell'impero diciamo un'isola occupata dall'impero ottomano e per questo stiamo parlando del del sedicesimo secolo e per questo la cultura turca è è sempre stata molto presente negli ultimi secoli a cipro ma c'è una grande differenza tra coloro che hanno ereditato questa cultura turca che sono stati sempre sull'isola quindi che hanno abitato sempre sull'isola e i turchi che vivono nella nella madre patria la differenza non solo tra il dialetto cipriota turco cipriota ma la differenza soprattutto per quanto riguarda numerose usanze e costumi diciamo che sono entrambi turcofoni per certi aspetti hanno poco a che fare e in un certo senso i turchi che vengono da ancara o da istambul si sentono un po più superiori si sentono superiori ma catherine vede che la loro presenza turistica è forse dovuta alla alla voglia al desiderio di allentare un po la morsa integralista che sta prendendo piede nella madre patria sappiamo che la turchia di erdogan è diventata sempre più restrittiva dal punto di vista religioso imponendo dei principi religiosi a quello che dovrebbe essere uno stato laico ebbene a cipiro a differenza di ancara istambul il gioco d'azzardo è più tollerato è più facile consumare alcolici e poi c'è anche la la prostituzione che uno degli dei motivi per cui molti turchi dalla madrepatria trascorrerebbero volentieri le proprie vacanze a cipro e poi ci sono i russi poi ci sono i russi che un altro un'altra componente molto forte nel nel turismo cipriota nord cipriota i quali insieme a quello immobiliare ed edile sono presenti molto presenti negli altri settori che erano stati precedentemente elencati quindi nel gioco d'azzardo nella nello spazio di alcolici e nella e quindi nella vita notturna nei dei locali eccetera dove gli alcolici vengono consumati nell'investimento appunto in locali e nella prostituzione allora quindi cipro sembra un po invasa da turisti britannici turchi e russi e nel frattempo katrin immersa in questi pensieri guardando fuori dalla finestra si lascia portare un caffè per tenersi sveglia cosa sta facendo katrin sta lavorando un progetto per le nazioni unite come dicevo prima ma si trova sull'isola per non destare troppi troppi sospetti perché è un progetto davvero germinale all'inizio di un grande percorso per cui per non destare sospetti non si presenta come una un ufficiale delle nazioni unite ma come una ricercatrice universitaria il cui nome compare su una rivista accademica e che appunto c'è stato un accordo un credito presso questa questa rivista che le funge da copertura in questo modo lei potrà visitare molti esponenti politici locali del nord intervistarli con la scusa che sta conducendo una ricerca accademica e farsi raccontare delle cose che forse non le sarebbero state raccontate se lei si fosse presentata come una inviata delle nazioni unite il caffè che ha sul suo tavolino emana un profumo molto molto intenso è ben presentato è molto bello a vedersi perché viene servito in una in una bella tazza con delle decorata con figure floreali e insieme alla tazza c'è una zuccheriera anch'essa di ceramica maiolicata in rosso in bianco quindi insomma da questi particolari vediamo che Katrin ci tiene un po' tanto all'aspetto anche al modo in cui gli oggetti si presentano è un po' potremmo dire un po' raffinata non non è il tipo di persona che verrebbe facilmente da da un bicchiere di plastica forse o forse sì magari il romanzo più avanti ci ci riserva alcune alcune sorprese in quel senso però in linea di massima è una persona che cerca di ricogliere anche l'aspetto bello estetico nelle nelle cose insieme alla al caffè a ricordare delle forti emicranie di cui soffre Katrin c'è un bicchiere d'acqua e delle delle pasticche che dovrebbero attutire il suo mal di testa cosa sta facendo quindi sta lavorando questo progetto in particolare sta riguardandosi degli appunti di uno studio in cui si 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 rivela la biografia politica di un personaggio che si chiama Ismet è un turco turco cipriota e in questa biografia Katrin annota con la sua grafia minuta e sottile qualcosa che poi vorrà chiedere o qualche spunto da cui vorrà partire per per la sua intervista e per l'ultima o meglio per l'ennesima volta oltre a massaggiarsi le tempie per per cercare di alleviare il mal di testa cerca con le dita della mano il braccialetto quello che le era stato regalato da Yesim non in preda a un a un movimento voluto oculato e ponderato ma proprio in preda a uno dei soliti gesti abituali che che ha sempre fatto quindi di andare a toccare a giocarellare con questo braccialetto e ancora una volta si rende conto che il braccialetto non lo ha più al polso lo ha lasciato come come sappiamo dalla prima puntata lo ha abbandonato su una panchina ed è andata via una panchina vicino all'ospedale dopo aver visto senza essersi fatta riconoscere dopo aver visto Yesim a distanza di tanti anni anche questo capitolo era brevissimo passiamo il settimo capitolo per chi volesse può seguirmi prendendo il mio libro a pagina 34 nella quale si apre invece se non ricordo male dell'inizio di una serie di capitoli tra di conversazione tra Catherine e Ismet questo politico che ci fanno un po' capire siamo ancora nella nella prima parte del libro il libro è suddiviso in diverse parti la prima parte del libro macro capitolo lo potremmo definire così si conclude proprio con questa intervista ismet grazie alla quale ci vengono rivelate tante cose sul sulla situazione politica di cipro e anche sulle differenze culturali che si dovrebbe tener conto delle quali si dovrebbe tener conto quando si entra in contatto con un'altra nazionalità e quando si interagisce soprattutto con i ciprioti giusto per la cronaca vi parlavo di macro capitoli o macro sezioni stiamo per finire la prima con gli ultimi capitoli di questa di questa sezione e poi ce ne sono altri vediamo un po' nell'indice non lo ricordo neanche a memoria cinque cinque altre grandi sezioni più il finale quindi in totale sono sei parti di cui si divide il libro ognuno con diversi piccoli capitoli e il finale allora tornando a pagina 34 del mio romanzo ci viene descritto Ismet che è un uomo che ha passato la sessantina ma che nell'aspetto dimostra un'età superiore è molto invecchiato abita nella periferia di Chirenia che si trova proprio a nord dell'isola sulla costa ed è seduto nella sua veranda nella villa di campagna quindi ce lo presenta seduto un po' più invecchiato di quello che ci si potrebbe aspettare in base alla sua età anagrafica tra le gambe tiene un bastone e si aggrappa con entrambe le mani al pomello di questo bastone ma quando vede Katrin con molta fatica riesce ad alzarsi e ad andarle incontro questo sembra un gesto molto di riverenza verso l'ospite perché nonostante le condizioni fisiche non glielo consentano agevolmente lui si alza lo stesso e la vuole salutare di persona chi è Ismet? è uno che ha partecipato alla vita politica del nord di Cipro attivamente in quel periodo stiamo parlando tra gli anni 60 inizio anni 60 fino all'occupazione turca c'erano degli scontri fra le comunità turco-cipriote e greco-cipriote uno dei motivi di questo scontro anche se la situazione sarebbe molto complessa e difficile da dipingere in poche battute comunque una di queste fonti che causavano lo scontro fra Greci e Turchi era che una parte sostanzialmente grande dei greco-ciprioti voleva riunirsi alla madre patria ideale che era la Grecia quindi voleva rinunciare all'indipendenza dell'isola e passare sotto l'egita della Grecia questo era chiamato Enosis e cos'era l'Enosis? era appunto un movimento che volevano secondo cui era giusto ricongiungersi alla Grecia ma in una cipro ricongiunta alla Grecia non ci sarebbe stato posto per la comunità turco-cipriota e allora cosa succede? succede che dei piccoli tafferugli si trasformano facilmente in una escalation di violenza per cui ci sono da entrambe le parti delle attività che potremmo definire senza timore di essere smentiti del vero e proprio terrorismo e questo ovviamente non giovava a una cipro unita come voleva essere dopo che gli inglesi erano andati via e l'avevano lasciata alla propria indipendenza Cipro si presenta quindi con una storia molto turbolenta e interessante una storia di divisioni riflessa anche nel titolo stesso del romanzo che ve lo ricordo è Stelle di un cielo diviso Catherine avrebbe tanta voglia di fare delle domande di cominciare l'intervista ma sa che non è quello il modo giusto per ringraziarsi il proprio interlocutore non bisogna andare subito come diremmo non bisogna andare subito al sodo bisogna che che prima ci si scambi molti convenevoli altrimenti si passa non solo per maleducati quando si è troppo diretti ma si passa addirittura per per interlocutori poco credibili in quanto non si conoscono i protocolli e quando uno viene considerato poco credibile come interlocutore non autorevole non riesce più a cavare nessuna informazione per cui anche se ha tanta voglia di fare domanda lei vuole presentarsi come un'interlocutrice valida e non guarda mai l'orologio addirittura neanche lo indossa quel giorno è un modo per lanciare un segnale preciso a Ismet che è andata lì senza orologio senza fretta senza la necessità di accelerare il processo e l'intervista anzi non fa neanche nessun riferimento al motivo per cui è là non parla di intervista non parla di lavoro dice semplicemente si mette a chiacchierare su temi molto generici e leggeri con il padrone di casa e quindi questo significa chiacchierare del tempo della meteorologia chiacchierare del del sapore eccezionale del caffè che si beve in questa in questa terra e fa anche qualche complimento al padrone di casa lodando la villa in cui abita e questo è un punto importante perché nonostante faccia dei complimenti che poi sono complimenti indiretti quindi assume come dire assume un atteggiamento pacato Katrin assume un atteggiamento pacato e prudente e fa qualche come dire l'Oda la villa fa dei complimenti senza esagerare perché non esagera perché generalmente nelle culture mediterranee in particolare potremmo dire a Cipro ma anche in quella araba insomma si ritiene che un eccesso di complimenti possa generare il cosiddetto malocchio cioè delle avversità delle avversità che poi dovrebbero essere basate su sull'invidia di chi indirettamente o direttamente fa dei complimenti e insiste sui complimenti quindi guardando qualcosa di bello e invidiandolo secondo questa superstizione si genererebbero delle avversità questo è un altro elemento di superstizione insieme alla lettura dei fondi di caffè che avevamo trovato qualche pagina prima e insieme al braccialetto che le era stato regalato da Yesim che conteneva appunto l'occhio di Allah o l'occhio di Osiride man mano che ci addentriamo nella lettura del romanzo vedremo come la superstizione gioca un ruolo primario Catherine sembra molto avere molto successo nel modo in cui si pone con il padrone di casa perché il padrone di casa la invita molto presto a pranzo dicendo di avere gran piacere nell'averla come ospite e Catherine ovviamente non ci pensa due volte accetta e ancora una volta anziché passare all'intervista al vero motivo per cui si trovano là il il padrone di casa Ismet le apre le porte della sua villa e la accompagna all'interno a dire il vero anzi prima di entrare nella villa vuole mostrarle una la sua cantina che è posta sul lato nord della villa ovviamente e alla quale si accede da un ingresso esterno per cui per raggiungere la cantina devono passare attraverso la veranda a girare la villa e raggiungere appunto la parete nord ovviamente si cosa si cosa ci si aspettia da una cantina che stia in un posto riparato dal sole nel quale non ci batta subito il sole che non sia troppo caldo per mantenere meglio i vini e passando tra appunto dal circondando facendo un giro attorno alla veranda si vedono delle travi che sono piene della pianta della vite e sono carichi di frutto quindi queste ci sono c'è un vitigno c'è ci sono delle delle uve in lontananza si vedono degli alberi di di fico e poi si vedono anche già carichi anche essi di frutto perché si sono dei frutti che tendono al violaceo quindi sono una specifica varietà di fichi e poi ci sono degli olivi eccetera si trovano insomma tutte le piante tutti gli molto mediterrane e non c'è da meravigliarsi e è quello che colpisce nella descrizione di questa scena all'aperto prima che vadano nella cantina è il frenire di cicale che essendo vicini al al mezzogiorno teso come orario quindi è intensissimo quasi assordante bene a questo punto Catherine e Ismet scendono giù vanno nel seminterrato che serve da cantina e sono due stanze la prima è un magazzino per viveri e ci sono due botti enormi le botti sono nella seconda stanza e insieme alle botti ci sono anche degli potremmo dire degli scaffali in cui sono allineate delle bottiglie polverosissime allora Ismet indicando le bottiglie dice quelli sono tutti vini europei possiamo vedere anche in questa in questa esternazione come non si è affatto diretto e da questo punto di vista la cultura mediterranea è abbastanza stranamente vicina alla cultura inglese in quanto entrambe fanno largo uso di riferimenti indiretti cosa che non farebbe un tedesco cosa che non farebbe un olandese o uno scandinavo ma neanche un americano gli inglesi come i ciprioti sono indiretti per cui anziché fare una domanda dicono qualcos'altro lasciando che la domanda venga o la richiesta venga indovinata in questo caso Ismet ha chiesto anzi non ha chiesto ha indicato le bottiglie dicendo quelli sono i vini europei la domanda ad accogliere sarebbe stata a Katrin scegli pure scegliene pure uno per il pranzo quale ti piacerebbe bere ma Katrin si rivela un'interlocutrice molto più sveglia e attenta di quello che si aspettava forse Ismet e rilancia parlando delle bottiglie di vino e non delle bottiglie di vino europeo e fa un'inferenza dice avendo visto i tralci di vite cariche di frutto fa un'inferenza e pensa che nelle bottiglie potrebbe esserci del vino prodotto localmente da Ismet e glielo chiede Ismet annuisce dicendo confermando che effettivamente nelle bottiglie c'è il vino che produce lui e allora lei con molta piaggeria dice che la scelta è facile il vino che vorrebbe assaggiare è il vino che produce lui nella sua tenuta fa nella cantina c'è una temperatura è molto rigida secondo Catherine potrebbero esserci soltanto 10 gradi laggiù e questo è un po' un forte contrasto rispetto ai 32 gradi che aveva appena visto in auto quando passava da un semaforo vicino al quale c'era un termometro digitale che segnava la temperatura all'esterno per cui si fa molto freddo e rabbrivisce Ismet nuovamente come si colgono i segni indiretti non fa finta di nulla sta attento alla sua ospite si accorge che la temperatura è un po' troppo troppo bassa e la invita immediatamente a tornare in superficie portandola però questa volta non nella veranda in cui l'aveva accolta quando era arrivata ma in un'altra veranda più più intima più nascosta più lussuosa questo ci fa dire appunto un progressivo aprirsi alla fiducia nei confronti di Katrin che è ammessa a una a un ambiente più intimo della casa in questa veranda trova un un paio di vassoi di vimini pieni di frutta pieni di frutta che possiamo indovinare proveniente dalla dalla tenuta di Ismet pieni di frutta quindi ci sono fichi gelsi pesche gialle prugne addirittura ci sono delle albicocche e appunto addirittura delle nespole che dato il caldo e data l'estate ormai cominciata devono essere le ultime della della stagione e poi accanto a questa bontà di frutta c'è anche una parte dove ci sono olive condite con sedano carote e prezzemolo ci sono un piatto pieno di formaggi un formaggio freschissimo e bianchissimo che deve essere feta o deve essere formaggio di capra e poi c'è una grande coppa di yogurt in cui dovrebbero intingere dei gambi di setano insomma viene Katrine viene trattata molto con molto riguardo come rientra nell'ospitalità mediterranea l'ospitalità è sicuramente sacra in tutti i popoli greci ma anche nel Medio Oriente non si scherza è ritenuta sacra e Ismet versa due bicchieri di vino ne porge a Katrine e poi fa subito la battuta dicendo di non considerarsi un bravo musulmano in quanto sta per bere del vino ma sempre scherzando comunque scherzando non intendo come una mancanza di serietà ma con un sorriso ecco potremmo dire che con un sorriso ammette che il il grande Allah Dio è misericordioso e che nella sua misericordia conosce e chissà forse perdona tutte le sue debolezze Katrine a questo riferimento a Dio si sente un po' a disagio perché effettivamente è la prima volta che non sa bene cosa rispondere sente soprattutto che l'idea di Dio e di religione sono molto distanti dalla sua vita e per questo è impreparata non che sia un'atea convinta è che molto onestamente dice di aver escluso Dio dalla sua vita un po' per pigrizia un po' per abitudine un po' per comodità cioè nel senso che si sente così impegnata dalle cose terreni che non ha molto tempo per dedicarsi all'idea o alla contemplazione di Dio però dal canto suo dice che ammira sempre coloro che riescono a parlare apertamente della propria fede senza vergognarsi e senza sentirsi arretrati o fuori moda a quel punto lei assorta in questi pensieri Ismet ha paura che il suo silenzio sia dovuto al fatto che non apprezzi il vino ma lei lo rassicura subito allora lui dice la invita a entrare e poi fa entrare a casa per il pranzo e fa una battuta dicendo che né il caldo né qualsiasi altra cosa che possa dare fastidio è in grado di entrare in quella casa forse qui c'è anche un altro riferimento alla superstizione nel senso che ciò che procura fastidio potrebbe essere anche inteso come un'entità negativa o una maledizione e lui si sente da quel punto di vista sicuro sicuro che non sia possibile che queste negatività entrino in casa sua o nemici entrino in casa sua quindi lei è la benvenuta con questo abbiamo concluso anche il settimo capitolo e per oggi direi che per questa puntata possiamo interromperci qui proseguendo per la prossima volta con la digressione storica su Cipro grazie per l'ascolto alla prossima grazie per l'ascolto